buonasera amici di youtube ci vediamo dopo tanto tempo per farvi gli auguri di buon natale ciao a tutti amici buon pomeriggio siamo felicissimi innanzitutto perché abbiamo il pancino vuoto vogliamo fare una bella merenda insieme a voi con delle cose bellissime e gustosissime natalizie ovviamente siamo nel tema da tantissimo tempo che non ci vediamo infatti ci vedrete un pochettino sciuppatini invecchiatini vedi io sono tutte le rughe tutto vecchio vecchio ti osserva la mia mano ghiacciata il freddo tonifica e conserva babbo è detto in sardo in italiano in italiano che freddo i brividi io avevo preparato anche questo cerchietto però babbo non l'ha voluto quello lì è per bambina lo mettiamo a pollon a bambina mi metto il cerchietto no babbo ti ho comprato il cappellino con tutte le stelline quello è natalissimo se si avvicina a pollon glielo mettiamo a lui in testa questo sempre se rimane fermo iniziamo babbo e cominciamo qua io leggo confezioni confetteria raffaello cocco e mandorla si vedete bello 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 al centro più al centro bravo babbo deve essere una cosa eccezionale ecco gli in tutti i modi benissimo benissimo siamo un po arrugginiti vero per quanto riguarda la l'inquadratura la registrazione ogni tanto questo pompon nel naso il pompon di babbo no la confezioncina è troppo carina falla vedere babbo ecco gira anche dall'altra parte guardate che bello come l'hanno confezionato bene un pochino è tutta dalla come annusa babbo bello 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 che cosa stupenda troppo vicino babbo troppo attaccato ok vi piace dai dai attagliamo guardate pronto aiuto deve essere fantastico vedete c'è anche l'interno si vede il sì il cuore forse sì no aspetta babbo poverino lo stavi mettendo lo stai facendo vedere ma nell'angolo nell'angolo pronto via allora il gusto è proprio tipico del raffaello vero questo è anche più buono ma non lo so anche la raffaella abbiamo mangiato le praline quelle tonde babbo aiuto che buono si sente squisitissimo si sente fortissimo il gusto del cocco questo qui è un regalo adatto da mettere in un certo per fare una confezione regalo bravo si anche tutti i colori natalizi vedi babbo ci sta benissimo nella confezione pacco proprio regalo di natale babbo quanto gli dai un bel voto 9 io 10 vai passiamo all'altro andiamo anche questa è una novità crispy cofi rete o con latino rete sport e guardate il porto volete ok che buono dice che al cioccolato fondente cento per cento per cento certificato di cacao sostenibile vedi un pochino che bellino guardate a che buon profumo babbo ma non mangi un pezzettino piccolo non ti preoccupare una parte con il cacao babbo sta giocando col cerchietto stavo distraendo questo lanciato lanciato via via è una parte con il c'è una parte caffè una parte un pochino più scuro quindi cacao cioccolato fondente scusate anche mi stavo distraendo con babbo 1 e 2 e 2 è esatto si si vede bene 1 e 2 ok pronto il profumo è fantastico due ecco duro è buono per lo spacco i denti allora è duretto infatti c'è scritto crispy babbo ma io ho girato la telecamera ma meno per dire la verità non mi va perché è pochino duretto è duretto poi il caffè con cacao non mi vanno la cosa soggettiva e quindi non ha dato punteggio perché essendo un buon prodotto perché le devo dare un punteggio basso allora diciamo che si sente molto il crisp infatti anche babbo l'ha sentito duretto quindi è croccantino come cioccolato però va bene per un giovane che ha i denti bene a qualche persona potrebbe non piacere perché magari innanzitutto è croccantino e poi si sente veramente forte il gusto del caffè a me piace da impazzire mi piace tantissimo ma sono tutte due le cose sia la croccantezza che non mi fa tanto sia il gusto del caffè non sei caffeteri babbo no 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 infatti io il caffè non ne prendo non ne prendo non ne prendo non perché mi fa male eccetera perché non mi piace io per il mio parere e gusto personale gli do un otto e mezzo sì ci sta passiamo all'altro babbo questo qui è il gusto che piace a mezzo pistacchio novie poco poco più qua novi pistacchio eccolo qui novità novie novi ah novi io novi alla francese l'hai detto alla francese babbo al ripieno al pistacchio con granella al pistacchio babbo cioccolato al latte che cosa deve essere buono 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 vi piace il mio nuovo maglione natalizio guardate christmas mood vedete ok i nuovi e poi l'interno se riusciamo a farvelo vedere ecco qui ok si vede un pochino all'interno col pistacchio e il profumo babbo è eccezionale vai mangia mangia questo è del sota 10 10 10 10 babbo i pistacchi interi dentro subito 10 no vabbè lo devo chiudere sennò me lo mangio tutto babbo una cosa eccezionale altrimenti qui in parte al baleno esatto finisce subito diciamo 10 10 10 10 se vi piacciono i pistacchi non c'è non c'è pistacchio andate sul novi 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 10 10 10 10 10 10 più ok adesso assaggiamo 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 i pistacchi interiore questo qui sono per la prima colazione del giorno di natale buca neve ciocco integrale anche integrale anche integrale sì sì e ho visto che era una novità e ho detto vedete c'è scritto novità e ho detto ma si dai li voglio prendere li voglio provare insieme a babbo con cioccolato fondente ricchi di fibre e 100 per cento farina integrale della marca doria soltanto che questo qui secondo me è più adatto non a mangiarlo così ma a bagnarlo eh sì o nel tè o nel cappuccino però vabbè noi lo assaggiamo così noi lo assaggiamo così ma il tè non l'abbiamo preparato vabbè non fa niente oh babbo sei triste che volevi anche il tè eh beh scusaci ho visto i biscotti e il biscotti era per fare l'ingioppata l'ingioppata eh scusa e come la chiami? mea culpa mea culpa la prossima volta ti preparerò anche il tè iii che buon profumo che hanno babbo c'è ma se vuoi vado a fartelo il tè adesso eh guarda lo dividiamo in due biscottino adesso lo stavo prendo subito babbo guardate che carino ebbè è bello vediamo se è ok molto friabile sì vai pronto? fantastico è buonissimo anche da solo anche da solo è buonissimo però con il zippato andava meglio buccaneve ciocco integrale è una cosa eccezionale è fatto anche la rima buonissimo si sente la farina integrale? sì e si sente il cioccolato? 9 9 un bello un bello un bello questi ce li faremo fuori a colazione babbo nei prossimi giorni cosa aspetteranno il giorno di Natale? ai che ridere chi ce la prende e se la mangia gna 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 poi andi a mettere via babbo vai col prossimo assaggio eh beh io prendo metto qui così è pronto per domani mattina dite che aspetta il giorno di Natale cucù io me lo faccio subito bravo babbo mi sembra un ottimo piano una strategia d'azione allora adesso ma soltanto che c'è c'è troppa cosa c'è quello ci sono questi panettoni come si fa domani mattina ma poi si vuole mangiare di nuovo tutto facciamo un altro video assaggi allora che ridere allora io direi di mangiare di assaggiare questo panettone alla nocciola nocciola creazioni di panettone con crema e granello di nocciola caramellata prodotto ottenuto esclusivamente da nocciole del Piemonte IGP no vabbè guardate guardate che cosa stupenda deve essere l'ho fatto Pollon eh questo non lo so nemmeno io cosa ha fatto? si è nascosto noi non riuscivamo a trovarlo in tutta la casa girando Pollon qui, Pollon qua eccetera lo chiamavamo e non veniva se no che io ho detto adesso mi vado e mi siedo al computer e vi faccio delle ricerche se no che quando sono arrivato al computer sento il pollo miauuu miauuu era lui che mi stava chiamando e mi diceva vai via vai via che il posto è occupato nooo non ci posso credere che bellino eh guarda voleva tutto il posto per lui eh si che monello intanto io mentre tu babbo stavi raccontando ero un pochino distratta da questo spettacolo ehi che bello cioè io non ho mai visto una meraviglia così sembra una torta fatta in casa tutto cacao no è tutta nocciola babbo odora anche le pereline che ci sono sopra si babbo lo scoperchiamoci li facciamo lo scalpo ci mangiamo tutta la parte di sopra sorridi che questa è una foto bellissima bellissima io guardo guardo le cose da mangiare cosa sorrido sorrido fai la faccia come se te lo stessi per addentare così che ridere vai tagliamo babbo? o guardia lo guardiamo soltanto? no eh si tu lo guardi tu lo guardi io lo mangio non c'è lo spazio per tagliare ho raccomandato taglio io taglio tagli tu ah si grazie tu tieni se non ti taglio un dito l'imparata non indovinare dove tagli che voglia guarda sei proprio nella direzione il dito sposta dito sposta oh mano che bello è tutto colato babbo nocciolato questo pezzetto di cioccolato lo vuoi? appoggialo poi ce lo mangiamo dopo allora vai no vabbè è una cosa strepitosa io già ve lo sto consigliando un altro pezzetto di cioccolato si è perché c'è tutto il cioccolato che è colato giù perché sennò ce lo perdiamo come andiamo a staccare il pezzetto l'affetto l'affetto eccolo qua ce l'abbiamo fatta che cosa stupendo babbo guardate 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 a babbo il pezzetto di cioccolato a me questa affetta guardate che bello come sono contento a me le piccole come diceva il sanno su brogio a me le piccolezze pronto a fare il video assaggi devi valutarlo bene il palettone così eh no dai guardate e chi se la prende la crema? io e chi se la prende? tu guarda buono guarda quello lì domani mattina non c'è più ma in tutto non c'è più scusa ti mangio ogni cosa mmm non sai che cosa è? mattina c'è colazione pranzo c'è una manenda tutto e c'è tutto 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 e non mangio c'è babbo non si riesce a smettere di mangiarlo mmm adesso devi assaggiare io ho 10 vi diamo 10 tieni 10 questa è la parte di sopra babbo senti com'è? una cosa eccellente buono però mi piace più in centro questo qui ho preso proprio un pezzo dove c'era la crema eh sì dove c'era la crema è fantastica ve lo straconsigliamo alla fine del mondo sì sì ottimo ottimo mi sono tutto sporcato mi diciamo il sardo si dice H da zatto questo è veramente da da lecarsi i baffi da mangiarselo in un sol boccone ma io baffi non ne ho non mi piace la carne niente è liscio liscio è un pezzo di cioccolato babbo è bene lo sai che cos'è? il golosimine fa attaccare la cosa buona dappertutto quindi vuol dire vuol dire che l'ho mangiato con con gusto con gusto allora babbo di questo panettone le creazioni bauli c'era anche al limoncello ah bello però io l'ho voluto prendere così perché mi ha ispirato tantissimo la copertura alla nocciola abbiamo scovato fanno vedere babbo dolce uvetta senza canditi SZ senza zuccheri aggiunti e senza lattosio abbiamo pensato che potesse essere utile fare un video assaggi anche di questo prodotto viste comunque le tante intolleranze tra la mia community quindi tutti i miei iscritti e comunque è un prodotto che secondo me potrebbe essere anche una valida alternativa per chi vuole un panettone più leggero che ha la glicemia alga ecco potrebbe essere appunto una valida alternativa questo speriamo che sia morbido beh l'aspetto la consistenza si vede che è morbido quello si scioglie in bocca ultramorbido sono accorti anche i nostri amici i nostri amici che ci stanno guardando si da come l'abbiamo tagliato babbo reggi tu sei il reggimento reggimento fanteria è ultramorbido guarda che bello morbidissimo una fettina piano che c'è la mano e il mignolo soprattutto vero? ecco ecco e...voila eh che bello meraviglia delle meraviglie guardate ultramorbido e soffice guardate che bello bellissimo vedete? Sì, giralo così, babbo, che così si vede bene l'interno, et voilà, ok, assaggia, vediamo come, mi prendo proprio il pazzetto con l'uvetta, è particolare, sai cosa c'è, forse è un po' asciutto, no? Allora è un po' asciuttino, lo sai perché abbiamo trovato asciutto, perché abbiamo mangiato prima quello, hai ragione, dove c'era molta crema eccetera, poi abbiamo mangiato questo, sì, è vero, e ci sembra asciutto, però non è male, Cioè, da te lo prendendo è una colla, che è, il primo panettone è adatto a mangiare anche così come un dessert eccetera, invece questo qui, questo che abbiamo assaggiato adesso, è un panettone adatto per una colazione, Bravo babbo, perché questo si può inzuppare, ma diciamo che non è malvagio, non è proprio assolutamente malvagio, per essere comunque senza lattosio, senza zuccheri, non si sente tanto la differenza tra un altro panettone che ha lo zucchero, voglio dire, sì, sì, buono, Gli do un 9, lo sai, è molto particolare, poi io non sono abituata al panettone senza canditi, quindi anche quello c'è soltanto l'uvetta, e l'uvetta gli dà proprio quel dolciastro, che secondo me appunto gli serve, visto che non ha zuccheri aggiunti, Eh sì, infatti, sì, comunque, ottimo, ora mi rimangio un altro pezzetto di questo cioccolato dall'altra copertura del panettone, Adesso ci vengono gli amici, gli amici che frequentiamo sempre, che ci dicono, ma che dieta vuoi fare, che dieta vuoi fare, stai sempre facendo video assaggi, vedi quello che sto facendo, E? Babo, una merenda coi fiocchi, vero? Sì, sì. Cosa è buona? Qual è il prodotto che ti è piaciuto di più in assoluto? È difficile scegliere? le creazioni bauli è stata una cosa eccezionale ecco qui noi abbiamo abbiamo terminato vero è buono vi salutiamo vi diamo appuntamento alla prossima occasione io spero che sia vediamo secondo marta secondo i nostri impegni per l'apertura della calza della befana bravo babbo è vero batti cinque batti cinque con la mano sporca di cioccolato assolutamente sì amici speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto di avervi tenuto compagnia come sempre con tantissimi sorrisi e tanta gioia nel cuore noi siamo veramente ultra felici di aver registrato quest'altro nuovo video assaggi insieme a voi ci ha fatto troppo troppo piacere e vi abbracciamo forte forte vi auguriamo un felice natale e un felice anno nuovo buonissime feste un abbraccio a tutti voi e speriamo di rivederci per l'epifania esatto ciao 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 a tutti ciao 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 amici ciao 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 è un particolare saluto a tutti quelli che ci scrivono e ci dicono vi vogliamo vedere i miei video assaggi in particolare saluto a tutti quegli amici certo e poi specialmente e in particolar modo non solo a quelli dell'italia ma specialmente a quelli che vivono all'estero quindi a tutte le persone che ci seguono e ci scrivono da ogni parte del mondo ci fa troppo piacere ciao 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 amici ciao a presto